E' stato bocciato il ragazzo che frequenta una scuola di Selvazzano e che è finito al centro dell'attenzione dopo che la madre ha affrontato una delle sue insegnanti all'esterno della scuola, chiedendo che venisse interrogato per rimediare un'insufficienza e che invece l'insegnante non ha voluto sentire. E' la stessa mamma a raccontare l'epilogo della vicenda, dicendosi amareggiata per la scelta dei docenti e dispiaciuta per aver aggredito la professoressa. Non è escluso che nei prossimi giorni il ministro dell'istruzione Marco Bussetti si recchi in visita a Padova per incontrare la docente aggredita.